Applausi per l'applausi Ok, vi ricordiamo che la... scusate, l'emozione Applausi Adesso la propita dell'applausi Questa è l'unica Appunto volevo ringraziare il tuo Piccaro l'altra volta e volevo dire che l'escrizione di prima era una lezione anzi non era una lezione, ma vensì mi sono raffinato, scusate Ebbè, tanto le ragazze sono potente perché lui dice è un mio fiore e allora anche se stai a fare un tempo Il corso intervento che vi ho detto oggi è il corso di salsi Cos'è? Cia cia? Salsa! Intervento di salsa Ok, grazie e un'invoca rubatura Una pausa Davide! 香ra un'invoca rubatura Marcia un'invoca rubatura 理agini è la orchezza di Nelson Feliciano e la voce del Junior Cordoba, in la cinta verde la signo è particolare. Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.